Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Ci siamo quasi, a breve l'ufficialità di Moreno Longo come nuovo allenatore del Bari, biennale per lui con opzione di rinnovo anche legata alla promozione del Bari in Serie A, in attesa anche di sbloccare la situazione Magalini con il Catanzaro, che di fatto poi sarà il direttore sportivo del club Biancorosso. In studio con me il dirigente sportivo Piero Ingravallo. Ciao Piero, benvenuto, buon pomeriggio. Buonasera a voi, grazie. Non siamo soli, perché dobbiamo anche omaggiare una splendida realtà del territorio campione d'Italia, il bitonto femminile calcio a 5. Lo facciamo in studio con la calciatrice Nicoletta Mansueto. Ciao Nicoletta, benvenuta. Ciao, grazie. E con Francesco Campione, addetto marketing della società. Ciao Francesco, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno e grazie dell'invito. C'è la Coppa, in bella mostra, abbiamo presentato nei giorni scorsi anche quella della Coppa Italia. Questa è dello scudetto di un'altra impresa del bitonto calcio a 5 femminile. Vi chiedo subito della portata di questa impresa, perché di fatto entrate nella storia del futsal femminile per due anni consecutivi, vittoria di Coppa Italia e campionato. Vai, vai, prego, prego. Che dice tu eri in campo. Allora, il bitonto è una realtà molto particolare. Entriamo nella storia, primo perché nessuno in Italia finora nel femminile aveva vinto due scudetti consecutivi e siamo i primi. È giovane, il futsal femminile, la Serie A, in questa versione c'ha 15 anni, quindi è uno sport molto giovane. E diventiamo leader, come numero di scudetti comunque, con la Ternana e il Montesilvano, che sono squadre storiche. Ovviamente là, immaginiamo, nel Lazio dove è nato il futsal, l'Abruzzo culla per tanti anni del futsal e poi c'è la Puglia con il bitonto. Ma soprattutto questa è una squadra, oltre che società, che in due anni ha raggiunto sette finali, ne ha vinte cinque, ne ha persa una al nono rigore, la Champions League, e si appresta a farne un'altra a settembre. Traguardi straordinari in pochissimo tempo. Nicoletta, che effetto ti fa però avere vicino quella Coppa? Beh, fa sempre un certo effetto. Io ero presente anche l'anno scorso, quindi ho vinto anche l'anno scorso e diciamo vincere è sempre bello. Riconfermarsi ancora di più. E non era facile ripetersi, no? Esatto. Perché dopo una stagione così esaltante... Esatto, quindi magari per gli scettici la prima volta è fortuna, la seconda un po' meno. Quindi siamo super super goliosi del lavoro fatto, siamo super goliosi anche di far parte di questa società che ha fatto innamorare un'intera città, perché non ci hanno lasciato per un attimo sole. E anche dopo aver perso appunto la finale di Champions a dicembre, siamo ritornati e ci hanno accolto ancora di più con amore. E quindi questa per noi è una grandissima soddisfazione. Poi abbiamo visto delle foto della finale con un palaflorio gremito, c'erano oltre 4.000 persone, anche queste poi sono soddisfazioni. Sì, perché il palaflorio, e siamo orgogliosi di averlo fatto a Bari, non aveva mai registrato questo numero di spettatori per una squadra di club. Aveva raggiunto il top quando è venuta la nazionale di volley. Tanto è vero che con i gestori, il gestore è rimasto molto colpito e non si aspettava tutta questa gente. Ed è un'altra cosa che veramente ci ha riempito di soddisfazione vedere quelle tribune. Noi giochiamo sempre da quel palazzetto pieno a giovinazzo, ma è più piccolo. Vedere la tribuna del palaflorio piena fa impressione. Con un certo effetto, con un certo effetto. Chiaramente Bitonto Calcio 5 femminile, ma anche Bari, perché qui è il tempio anche del Bari. E chiaramente attendiamo davvero, Piero, ci siamo. L'ufficialità di Moreno Longo come nuovo allenatore del Bari, ce l'attendiamo nelle prossime ore. C'è accordo totale su tutto e sulle cifre e sui programmi, ma anche poi sulla durata di questo contratto. Sarò un biennale con opzione di rinnovo, anche legata alla promozione del Bari in Serie A. Probabilmente tra giovedì e venerdì la conferenza stampa di presentazione con il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. Ti chiedo, Piero, che scelta è quella di Moreno Longo? Beh, ci siamo, diciamo. È un profilo che ti piace? No, un profilo a me piace perché è giovane, poi viene dalla gavetta perché ha fatto tanta militanza nei settori giovanili del Torino. Quindi è una fucina molto, ma molto importante. Ma poi è un uomo che ha un carattere particolare, si fa valere nello spogliatoio, è uno che è molto vicino poi ai calciatori. Diciamo, non ha un vero e proprio credo calcistico, perché è un po' camaleontico nel disporre la squadra in campo. Però ha già vinto di per sé, sia con il Torino settore giovanile che a Frosinone. Ha fatto anche bene quest'anno a Como, però poi non sappiamo perché è stato esonerato. Il Bari ha fatto un'ottima scelta, tra l'altro anche giovane di età. Vediamo adesso come andrà a lavorare con Magalini per l'assemblaggio della squadra, tra i vecchi e i nuovi, perché serviranno tanti nuovi calciatori, perché va fatto quel salto che non ci è stato permesso di avere in questa stagione appena conclusa. A giorni si sbloccherà anche la situazione di Magalini. C'è questa carta privata, questo impegno assunto con il presidente noto del Catanzaro, che di fatto sta bloccando l'ufficialità di Magalini come nuovo direttore sportivo del Bari, indispettito, diciamo così, il presidente del Catanzaro noto chiede quasi una sorta di risarcimento economico. Piero, poi chiaramente è solo questione di giorni perché non è assolutamente in dubbio poi l'affare Magalini con il Bari. Si tratta soltanto di trovare tra di loro la soluzione che penso la stiano trovando. Sono un po' come limare determinate richieste economiche da un lato e dall'altro per sbloccare. Controvoglia non puoi tenere nessuno, parliamo di professionisti, quindi secondo me a breve da buoni galantuomini, dato che è una scrittura privata, troveranno la soluzione. Magalini potrà lavorare per il Bari a pieno. Maniere ufficiali, ora diciamo che è dietro le quinte, chiaramente sul territorio c'è Valerio di Cesare, però chiaramente è già lavoro anche Magalini in attesa poi di farlo ufficialmente, però deve risolvere ancora questa situazione con il Catanzaro che intanto deve anche trovare un sostituto, poi magari anche la posizione di noto si ammorbidirà. Loro perdono sia il direttore che Vivarini, quindi è un discorso tutto nuovo anche per loro, come lo è qui a Bari, però siamo nei tempi giusti per far sì che loro possano lavorare, perché il mercato si è entrato, non è entrato ancora pieno, nessuna squadra ha fatto già acquisti tranne qualche squadra di Serie A, poi ci sono anche gli europei, quindi molti sono alla finestra. Vediamo adesso un po' come inizieranno. Nicoletta, Francesco, seguite anche da vicino il Bari, siete tifosi, come la state vivendo? Io sì, diciamo che quest'anno è stato un anno difficile, però per fortuna è finito nei migliori dei modi. Penso che anche Bari meriti una piazza non quella ovviamente della Serie C e speriamo di ripartire più forte, perché anche il Bari è una piazza a livello anche di tifo, cioè vedere uno stadio che lotta per la salvezza, che magari stava per retrocedere, vedere uno stadio la curva piena fa sempre un certo effetto. Quindi speriamo che quest'anno si lavorerà almeno per onorare il tutto. Alzare decisamente l'asticella, Francesco. Siamo solidari con i tifosi baresi, quindi siamo andati sulle loro posizioni perché vogliamo un Bari leader. Se il Bari funziona, funziona tutto lo sport dell'area metropolitana. Noi ci piace essere considerati rappresentanti dell'area metropolitana, lo sport al femminile. Voglio anzi approfittare per ringraziare la Pink Bari che ci ha fatto gli auguri per lo scudetto, per la squadra storica femminile di Bari, perché il movimento femminile è importante. So che anche il Bari ha delle giovanili, anche loro hanno le femminili, perché bisogna far crescere anche il movimento del calcio femminile in Puglia. I programmi, Piero, chiaramente attendiamo le parole del presidente Luigi De Laurenti, perché solo lui può chiarirci quali saranno poi i programmi, gli obiettivi in vista della prossima stagione. Bisogna alzare l'asticella, non si può vivere una stagione come l'ultima e bisogna provare a tornare presto protagonisti. Le mosse Longo Magalini potrebbero far pensare anche poi ad un rilancio, speriamo, in grande stile. Poi però toccherà al presidente chiarire tutti gli aspetti. Hai detto bene, Cristian. Il presidente dovrà fare chiarezza, spiegare un po' cosa intende fare la proprietà con la squadra del Bari. Diciamo che si sta cerchiando di gente competente a livello tecnico, quindi sta creando un gruppo anche con poi l'ingresso di Dicesere in qualità di manager e un supporto in più con il presidente, che prima aveva soltanto come riferimento il Ciro Polito di esse, ma oggi abbiamo un gruppo che si metterà a disposizione. Ma principalmente la fa da padrona un po' quella che è la decisione che dovrà prendere la società. Cosa intende fare? Intende creare un gruppo di lavoro importante, una squadra importante, per puntare ad un obiettivo particolare. Non diciamo qual è, ma secondo me una famiglia come quella di De Laurentiis dovrebbe puntare ad un discorso importante. Al massimo traguardo in una piazza come Bari bisogna sempre puntare al massimo traguardo. Una piazza delusa, quindi ha tutta la disponibilità per creare nuovamente un appeal con la piazza stessa. Torno a Nicoletta e torno al calcio femminile, alla vostra finale. Che finale è stata contro la Tichetaca Virtus Francavilla? Diciamo che con l'ora... 3 a 2 il risultato finale. 3 a 2 era la terza finale, perché abbiamo giocato la finale di Scudetto anche l'anno passato, la finale di Coppa Italia quest'anno, quindi quest'anno era la terza volta che incontravamo loro. Ovviamente quest'anno rispetto all'anno passato era gara secca, invece magari l'anno scorso era su tre gare. Su tre gare, sì. Quindi diciamo sappiamo benissimo che partite secche è tutto diverso. Può accadere di tutto poi, sì. Perché non saltano schemi, quindi vince chi ha più voglia di vincere. Siamo stati brave perché siamo andati in vantaggio, però poi abbiamo pareggiato e siamo andati sotto. Quindi lì c'è stata proprio la reazione da vera squadra, l'abbiamo portata a casa. Poi ovviamente con 5 mila spettatori dalla tua parte è ancora più... La signorina ha carattere, io ho visto la gara. E ripresenta al Palaflore, sì. Aspita, lei ha fatto il primo gol, il vantaggio della squadra, ma poi ho visto che anche in panchina, nei confronti... Pugliese, Nicoletta. ...delle confronti di squadra si fa valere. Ah, perfetto. È un bel carattere. Diciamo che ha tutta la scuola. Ma adesso abbiamo visto delle foto e hai vinto anche il premio come miglior calciatrice della finale. Quindi anche quella è un bel premio, un bel riconoscimento. Magari ora lo vediamo nuovamente in foto. Sì. No, no, alla fine a me non importava vincere questa. Poi il premio come miglior giocatrice è stata una soddisfazione per il lavoro svolto in questa stagione. E quindi adesso ci ricanichiamo le pile e siamo pronte per la prossima. Ecco. Eh sì, e vediamo. Ti vediamo in questa foto con la Coppa e con poi il premio come miglior calciatrice. Chiaramente, Francesco, poi Coppa Italia e campionato per due stagioni di fila, la sticella si deve alzare ancora. Come si resta a livelli così alti? Diciamo che è una società giovane, da quattro anni siamo in pochi a gestirla. E gestire una squadra che vince due anni consecutivi, lo scudetto diventa al centro dell'attenzione, dei media, ho sempre difficoltà a coinvolgere ragazzi e dirigenti a venire. Voglio dire, anzi posso approfittare per l'escusa del Presidente Tini perché è impegnato al lavoro a quest'ora e quindi mi ha avvisato all'una meno un quarto e dice per favore se puoi sostituirmi. Per cui è difficile, oltretutto noi abbiamo un modo di raccontare quello che fa la squadra molto particolare e ci ha portati all'attenzione internazionale. Abbiamo dei fan club in Brasile, abbiamo venduto un kit di maglie a Ibiza e un gruppo di spagnoli giocherà ai torni estivi con la maglia del Bitonto. Quindi siamo costretti a inseguire queste situazioni, diventa sempre più complicato. Oltretutto l'esperienza in Galizia contro il Burela, il Benfica, il Champions League ha accresciuto questa notorietà e l'idea nostra di portare questo grande evento a Bari fa ancora di più crescere la responsabilità perché riuscire a portare per la prima volta in Puglia dopo il G7, la Champions League femminile è una sorta di main round che si gioca tra sei squadre due gironi da tre, le migliori classificate e poi si gioca nella finale che viene trasmessa da Sky e in tutto il mondo. Quindi diventa una cosa, raccontarla è facilissimo, però se io penso a quello che serve perché ci siamo già mossi per l'ospitalità. Ma a che punto siamo? Quante probabilità ci sono di vedere la Champions in Pagli? Allora, tecnicamente dovrebbe gestire, quando parlo di Benfica, parlo proprio del Benfica a Natale eravamo noi con i pulmini del Benfica e con il pullman della Serie A di calcio. Allì ti ho detto che forse è meglio che vincono la Champions League, però abbiamo perso l'ottavo rigore per la sfortuna. E allora il Benfica ha vinto. Loro non hanno mai organizzato la Champions, che voglio sottolineare ancora un terneo friendly nel senso che c'è il patrocinio della UEFA, ma non è organizzato formalmente dalla UEFA. Se il Benfica rinuncia al 100% siamo noi italiani e noi che ci proporremo, la stagione finisce il 30 giugno, in Spagna stanno ancora in grado alla finale, ovviamente la Porta di Mabari la divisione ha già assicurato la sua disponibilità, abbiamo anche degli imprenditori baresi della logistica dell'ospitalità che hanno già assicurato il loro coinvolgimento, quindi sicuramente faremo bella figura perché i baresi fanno bella figura. Non ci sono dubbi. Questo ti fa capire, Cristian, tra l'altro, quello che è la programmazione di questa società. Eh sì, è quello importante, guardare avanti, progettare, investire e guardare avanti. E qui a Bari, in provincia, la sappiamo fare, quindi merito a tutto il gruppo e a queste ragazze perché è un gruppo, io ho notato, molto compatto. Continuiamo a parlarne dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. CarService Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Yapigia 243 Bari. Suzuki. CarService Bari, nel cuore di Bari. Let's party. Hello Summer! A City Moda parte la caccia al bollino con sconti fino al 40% sulle collezioni estive. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia e su Facebook. Nani! Qui il caso è complicato? Eeeh, più della prova costume d'estate. Ma dove fare la spesa? È diventato davvero difficile. Madonna santa! E semmo gioca! Ma mi stai sentendo? Zoom! C'è qui in gardium levissima! Più! Nani! Ma come hai fatto? Usa! A me! Oh! Bello! Per fare luce sulla convenienza, basta venire qui! E quindi dobbiamo fare la spesa sempre da Sigma? Beh! E la prova costume? Pure! Oh! Ma al buio però! Beh, ci mancherebbe! Yuppi! Ancora! Scopri le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it Scopri le nostre offerte su www.sigmasupermercati.it Non c'è un minuto da perdere! Da Asta Mobili inizia il fuori tutto! Sconti eccezionali su tutti gli arrebi presenti in esposizione! Tante offerte imperdibili! Di prima arriva, più risparmio! Corri! Ti aspettiamo! Parimo di un'ostrada statale 96, chilometro 100 fino! Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino! Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13! Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Codaliro, Sposè e tanti altri! Integratori alimentari per ogni esigenza come Neymed, Enerzona, Enervit e Gymline! Oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come i consegni a domicilio, tampone rapido, ECG, altercardiaco e pressorio, profilo lipidico! Scegli Farmacia Cavallo, la tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio, 12esimo 48B a Bari! Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Piero Ingravallo, Nicoletta Mansueto e Francesco Cambione, sempre in bella mostra la Coppa dello Scudetto del Bitonto Calcio a 5 femminile. Piero, chiaramente ci sarà tanto lavoro da fare anche per la costruzione della nuova rosa. Ti faccio vedere anche in grafica la rosa attuale del Bari, chiaramente ci sono anche rientri dei prestiti, i calciatori di proprietà, però ci sarà davvero un lavoraccio da fare. Si è partito intanto dal riscatto di Beppe Sibilli, quindi un primo passo comunque importante. Vedendo un po' queste che sono quella che è la schermata, sì, importante è stato il riscatto di Sibilli. Quindi lo zoccolo duro secondo me sarà quello di Maiello, Benali, poi Vicari. Maiello che con Longo ha lavorato a Frosinone. Certo, certo, Ricci, Puccino, però poi bisogna vedere gli altri che non sono più under ma diventano over. E infatti questo è un altro aspetto da considerare, perché poi la lista di 18 over implica delle scelte decise. E' importante, ma poi tra l'altro trattare dei giovani di categoria, di importante, di prospettiva. Molti che non rientrano nei piani di Longo, secondo me ci sarà un lavoro importante che farà... C'è una rosa presente da rifondare. E negli 11 titolari è però anche nella costruzione della squadra. Tra poco parleremo anche di under, ti faccio due nomi anche per sapere il tuo parere. Francesco, invece, voi siete a posto come rosa, come calciatrici italiane, brasiliane. Sì, abbiamo una rosa molto forte che è difficile migliorare. Stiamo cercando di capire... Per migliorarla dovete acquistare una top player, no? In più rispetto a quelle che già abbiamo. Perché noi abbiamo praticamente quasi il 5 titolare del Brasile e 3 titolari della Nazionale Azzurra. Quindi abbiamo già... E qui c'è una rappresentante, perché Nicoletta fa parte della Nazionale Azzurra e reduce anche no dalla partita in Croazia. Sì, hanno appena vinto un torneo per la seconda volta come Italia. Stanno facendo un grande percorso di crescita perché tra un anno e qualcosa nelle Filippine c'è il primo mondiale ufficiale di futsal femminile. L'Italia deve qualificarsi. Quindi a ottobre sono tutte chiamate alle qualificazioni. Nicoletta Sibili è un calciatore che ti piace, no? Si riparte sicuramente da lui. Sì, sì, diciamo che anche nella gara di ritorno con la Ternana ha mostrato un certo caratterino insieme al capitano che purtroppo ha appeso gli scarpini al chiudo. Speravo in un altro anno, però ci accontentiamo di averlo in dirigenza. Senti, il vostro gruppo invece cosa aveva di speciale? Cosa ha di speciale? Poi, diciamo prima, è difficile anche migliorare una squadra così forte, così competitiva? Sì, il nostro gruppo noi siamo una famiglia perché ovviamente noi durante l'anno sono dieci mesi che ci alleniamo due volte al giorno tra trasferte e partite. Quindi hai poco tempo per stare, io per dirti che sono pugliese, vedo la mia famiglia una volta al mese perché ovviamente non riuscendo a trovare tempo. Quindi si crea davvero questo legame di famiglia che se non arrivi tu ci sono io. Questa è una cosa molto bella che non è nemmeno facile quando si ha un gruppo di tante pedine fondamentali. Quindi siamo state brave insieme allo staff tecnico, che vorrei ringraziare il mestere Paca, che è la nostra preparatrice atletica, che hanno fatto in modo di tenere sempre l'armonia del gruppo al di sopra di tutto. Piero, prima parlavi di Under, chiaramente pensando ad una sinergia con il Napoli, il nome che mi viene in mente è quello di Ambrosino, classe 2003 che Magalini tra l'altro ha portato anche a Catanzaro, e quello di Sgarbi, attaccante classe 2001, che ha indossato la maglia dell'Avellino invece dell'ex direttore sportivo Giorgio Perinetti. Ti chiedo un parere su questi due calciatori. Sono due giovani di buone prospettive, non per questo sono nel mirino non solo del Bari, ma anche di altre società. Benvengano perché sono giovani che possono dare quello che è l'apporto alla società, perché quello che deve comporre adesso lo staff è un'ossatura importante, cominciando dalla difesa, quindi sostituire già di Cesare, prendere un portiere che possa insieme a Pissardo difendere la porta del Bari. Anche un under forte di prospettiva, come lo è stato Caprile? Potrebbe, come potrebbe anche essere un altro con esperienza. E poi a centrocampo diciamo che bisogna, non sappiamo se viene confermato o meno maita, trovare qualcuno in mediana e poi puntare su un buon attacco. Servono gli attaccanti, adesso non c'è praticamente nulla. Tranne Sibilli che può svolgere sia la zona di tre quarti che quella di seconda punta, servono effettivamente degli attaccanti, delle prime punte e delle seconde punte importanti. Serena è un investimento economico importante. Francesco, nel calcio al 5 invece, parlando di cifre, cosa serve per disputare poi un campionato di vertici, un campionato importante? Perché chiaramente dal calcio maschile, calcio a 11, immagino ci sia una differenza abissale. Ripeto, tutto è legato anche alla gioventù di questo sport. Considera che, partendo dal presupposto che i soldi non ti garantiscono la vittoria, perché anche altri hanno investito parecchio come abbiamo investito noi, per iniziare a vincere devi pensare di investire mezzo milione di euro. Noi abbiamo la fortuna che il tessuto imprenditoriale di Bitonto si riunisce all'inizio della stagione, e c'è una vera e propria asta sulla maglia, noi mettiamo la maglia sul tavolo e ogni sponsor dichiara la sua disponibilità all'investimento. Quindi noi quando usciamo da questo incontro, che avverrà tra qualche giorno, usciamo tra virgolette con i soldi in tasca, diciamo noi. Con il budget sul mercato. Perché sappiamo già quello che possiamo acquistare e che siamo sicuri di poter pagare tutte le ragazze che vengono da noi. Quindi la speranza è magari di uscirne con un extra budget perché... Ma è sempre molto difficile in questo periodo l'extra budget, speriamo. Però si stanno avvicinando nuovi imprenditori, magari non Bitontini, vediamo cosa riusciamo a fare quest'anno, il Presidente si inventa. Anche un appello in tv può essere fatto, perché ci sono tanti telespettatori anche interessati a questa nuova situazione. Vedendo questi risultati e con l'asticella che bisogna alzarla, per forza di cose, significa andare a vincere la Champions. Ma qui ben rappresentano questa regione, questo movimento. E poi vedi il sorriso di queste ragazze. No, Nicoletto, sorridi, però bisogna vincere la Champions. Ci si è andato ad un passo, uno storico triplete sarebbe stato. Per ora lo step è quello? Per forza, nel senso sarà quello, ma sarà pure riconfermarsi in Italia, che è molto importante. Speriamo di seguire il detto, non c'è due senza tre. Sorride perché dicono che hanno pressione. Nessuno le dice di vincere il campionato. Sempre questa pressione, anche a Bari, sai che si parla sempre di pressione. È un territorio che preme per avere queste risultate. Perché si lavora in piazze importanti, in piazze ambiziose, quindi chiaramente la pressione c'è sempre. Prima parlavamo a telecamera è spente, però anche poi come riescano poi le calciatrici a mischiare anche con la città, con i tifosi, cosa che avviene ormai raramente, non parlo a Bari, ma in tutte le città italiane per quanto riguarda poi il calcio. Sì, il nostro progetto si chiama La squadra e la città. Perché nella nostra idea è, e magari si riuscisse a fare anche nel calcio maschile, e non più i tifosi verso la squadra, ma la squadra verso i tifosi. Noi facciamo una festa di inizio stagione, quest'anno l'abbiamo fissata il 7 settembre, questa è una notizia che anche Nicoletti l'anteprima non lo sapeva, da parte del calcio al mare dei santi medici, organizziamo questa grande festa in cui presentiamo una squadra, l'Under-19, tutti i dirigenti, e poi regaliamo uno spettacolo alla città, e si radunano 1500 persone con un unico obiettivo, farsi le foto con le ragazze, che ovviamente poi si fermano per un sacco di tempo in piazza per chiacchierare con i tifosi. Sono le cose che funzionano, l'abbiamo visto anche ultimamente con Valerio Di Cesare, nel firma coppia poi organizzato allo store di Corso Capur e della SSC Bari, poi sono quelle occasioni che permettono al tifoso di abbracciare il proprio beniamino. Noi dobbiamo ancora andare in pausa pubblicitaria, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e del Rosso di V-Sport. Hello Summer! A City Moda parte la caccia al bollino con sconti fino al 40% sulle collezioni estive. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia e su Facebook. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggio Franco. Ogni giorno sono il meglio del mare per la tua spesa, anche i piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Vieni a trovarci in via Orfeo Non c'è un minuto da perdere. Da Asta Mobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arrebi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Di prima arriva più risparmio. Corri, ci aspettiamo. Parimo di una strada statale 96, chilometro cento finito. CODES, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari dalla progettazione alla manifattura. CODES SRL è a Modugno in via Brescia 4D. Mail codessrl.info-gmail.com WhatsApp 375-817-0098 WMB Viaggi Pacchetti vacanze a quote fisse e vantaggiose. Vienici a trovare in una delle nostre agenzie. Siamo a Bari. In via Brigata Regina 72, via Giuseppe Fanelli 221, via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2-B a Valenzano. WMB Viaggi.it Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Vasta gamma di prodotti dermocosmetici, integratori alimentari, farmaci da banco, molteplici servizi. Farmacia Cavallo in via Le Papa Pio 12-48B a Bari. Da 55 anni progettiamo soluzioni di sicurezza ambientale e antincendio in oltre 47 paesi. Proteggiamo migliaia di persone e imprese in tutto il mondo. GL. Antincendio dal 1965. Qualche minuto insieme con Piero Ingravallo, Nicoletta Mansueto e Francesco Campione. Siamo in attesa dell'ufficialità di Moreno Longo. Arriverà davvero a momenti con la firma di un biennale con opzione di rinnovo. Lo staff con Migliaccio, allenatore in seconda, Nava preparatore atletico, Ceccarelli collaboratore tecnico con Mauro Antonio che dovrebbe restare invece come preparatore dei portieri. Uno staff, a parte Mauro Antonio, storico per quanto riguarda poi le avventure di Longo. Conferma per lo staff del Bitonto. È fondamentale, la programmazione è fondamentale. Noi abbiamo uno staff di livello internazionale. Per vincere devi necessariamente averlo. L'allenatore ha vinto tre panchine d'oro. Gli allenatori vengono premiati con gli allenatori di calcio. La preparatrice atletica è Paca Marquez, che è la preparatrice atletica del Brasile, responsabile della preparazione atletica della CBF. È appena arrivato, perché è passato da Itria, dalla Valle di Itria sta arrivando poi a Bitonto, un nuovo fisioterapista che si chiama Matteo Spitrez, che è un altro genio, diciamo, del settore. E ci avvaliamo nella consulenza di Luca Mangiatordi, che è un professionista di Ruvo, che all'inizio della preparazione sottopone le ragazze a dei test fisico-atletici computerizzati. e di ciascuna di loro noi abbiamo una scheda precisa di quella che è la preparazione che devono fare. Quante probabilità ci sono che Nicoletta possa vincere invece il premio come miglior calciatrice dell'anno? Non lo so, non lo so. Nel senso, io sono molto autocritica con me stessa. Però è stata una stagione, da un punto di vista anche numerico, esaltante. Sì, è stata una stagione fondamentale per me. Sono contenta, ma questo lo devo, sì, anche a me, ma anche nell'ambiente in cui ci sto e vivo. Perché molte volte è più fondamentale della propria performance personale. Io a Bitonto sto bene e è diventata casa mia. Infatti, stavo per chiedere, sirene di mercato, per cui chiaramente bisogna fare attenzione e rinforzare la squadra, ma non perdere le migliori. Molti chiamano loro, ma molte chiamano noi. Solo che noi rimaniamo così perché stiamo bene. Perché come diceva il Presidente in un'intervista ieri, è molto importante anche la persona. Cioè, come diceva prima, è una famiglia. Quindi devono esserci, essere giocatrici che credono nel rapporto personale. Ricordate, le allontaniamo queste sirene di mercato? Sì, sì, sì. Io non ho ancora parlato, se loro vi vogliono. Non ho sentito il suo nome tra le giocatrici, da confermare ancora. La mia c'è la volontà, perché, nel senso, io sono poi molto patriota. La maglia che indosso la sento molto mia. E io in campo dare la vita per ognuna delle mie compagnie, e per ognuno che fa fare. dare anche la maglia del Bari. Quest'anno è venuto un po' meno. Certo, anche se lì va fatto un grande lavoro, Christian, perché entrare nella testa dei calciatori, far sì che vengano amati dalla piazza, e che sentano questo attaccamento, c'è bisogno di tanto lavoro. principalmente della società. È la presenza della società che cementa questo tipo di rapporto. Quindi ci sono tutte le possibilità per far sì che questo avvenga. Però la società deve fare un grandissimo lavoro. Adesso si sta arricchendo di questi uomini nello proprio staff tecnico, come direttore, allenatore. Però deve cementare ancora di più questo rapporto con la piazza, per far sì che i calciatori si sentano in una piazza importante. Ma poi anche perché, dopo tutto quello che è avvenuto, un rincrocio tra le due parti ci deve essere. Assolutamente d'accordo con te. Intanto abbiamo un servizio da mostrarvi, perché questa mattina a Bari, la calciatrice della Juventus Women e della nazionale italiana Sara Gama, ha incontrato gli atleti delle società sportive pugliesi. L'evento è stato organizzato dalla Pink Bari, il servizio del nostro Michele Carofiglio. Sentiamo. Un incontro per promuovere il calcio femminile in Puglia e per far conoscere la propria storia alle giovani atlete del territorio che praticano questo sport. A Bari è arrivata Sara Gama, calciatrice professionista, capitano della Juventus Women e della nazionale italiana e vicepresidente dell'associazione italiana calciatori. Sara Gama ha incontrato le ragazze delle società sportive baresi, come la Pink Bari, che ha organizzato l'evento e che ha rinnovato la partnership con la società bianconera. Ma per me è molto bello essere qua e appunto credo che oggi più che mai abbiamo fatto tanti passi avanti del calcio femminile, ma c'è ancora tantissimo da lavorare e soprattutto bisogna lavorare con la base, che sono le bambine, ma anche le grandi devono avere un posto dove giocare. Questa è una società che le fa giocare, che dà uno spazio a loro e per me è un piacere essere qua e sapere che trovano spazio dove potersi esprimere e cresce. Credo che la Puglia meriti altri palcoscenici per quello che riguarda il calcio femminile e sapete che, voglio dire, mi sono sempre impegnata tanto. Per cui credo che questo evento sia importante per quello, per dare la speranza alle nostre ragazze pugliesi, ho detto tutte, di poter apprendere come si fa a diventare una calciatrice. Sì, la Pink tornerà ad avere una squadra d'eccellenza e anche questa è stata una scelta su cui abbiamo meditato perché, come dire, quando si gioca un campionato le possibilità di vincere ci sono sempre. E pensare di cominciare un percorso non era proprio la cosa più semplice dopo quello che è accaduto. Però, appunto, riteniamo che non sia giusto. Le ragazze dopo i 17 anni a Bari non possono più giocare. E chiedere alle famiglie, alle stesse ragazze, di rinunciare agli esami di Stato in una scuola dove hanno già studiato, dove dovrebbero terminare il loro percorso, è complicato. Per cui la Pink, voglio dire, si è rifatta avanti, riparte con un'eccellenza, sarà una squadra molto giovane, soprattutto con Baresi e Pugliesi, ecco, non pensiamo di investire all'estero per farle giocare. Nicoletta, condividi il messaggio della signorile, perché poi dice bisogna dare spazio anche al calcio femminile, ripartiamo dall'eccellenza anche per poi permettere, no, a tante calciatrici del territorio di poter praticare anche il calcio femminile a undici. Sì, sì, anzi apprezzo che comunque si è voluto rimettere in gioco, ripartendo appunto dall'eccellenza con giocatrici pugliesi. Sì, perché serve questo, cioè non dobbiamo mollare perché è stato fatto tanto ma c'è ancora da fare tanto. Quindi io ricordo quando sono partita io il calcio femminile era a zero, adesso è a tre, magari dobbiamo sempre salire di livello e io vorrei lasciare magari questo sport e questo movimento due, tre livelli in più rispetto a dove l'ho trovato io. Ma che a voi funziona che i tifosi vi chiedono le magliette come per i calciatori di calcio? Come... Sì, la stessa cosa. Lui ne sa qualcosa, lui ha gestito... È ingestibile. È una valanga che ci sta travolgendo. In senso positivo? Noi abbiamo venduto in un negozio di articoli sportivi di Bitonto 350 magliette in 40 giorni. La questione è che loro vengono sommerse per dire avevo fatto un ordine di un centinaio di magliette da destinare alla vendita, ho commesso l'errore di far vedere lo scatolone, dopo due ore mi è arrivato l'ordine che mi ha esaurito questa... Tutte le maglie. Le magliette di ordinato sono finite perché le ragazze vengono veramente subissate ma maglie dal bambino di due anni alla 3XL perché gli adulti vogliono andare in giro con la maglietta del Bitonto. Bello, vuol dire parliamo di senso di appartenenza vuol dire anche questo. Siamo in chiusura e lasciamoci con un pensiero in libertà. Parto da te, Piero. Diciamo, per quanto riguarda l'arrivo di Longo che sia un buon inizio come anche quello del direttore ma quello che ci aspettiamo tutti quanti è la conferenza stampa del Presidente. Per quanto riguarda il Bitonto calcio femminile e quello che possano andare avanti col sorriso che li contraddistingue nelle loro attività e che possano avere ulteriori soddisfazioni perché meritano. Sono veramente dei programmi fatti per bene. Nicoletta? Niente, noi io spero noi come squadra ce la metteremo tutta di nuovo per riconfermarci e per non abbassare l'asticella perché appunto come ho detto sia la società che la città lo merita e per quanto riguarda il Bari spero che ritorni protagonista perché anche Bari ha una piazza che merita il meglio possibile. Francesco? Per il Bari il futuro del Bari è riunirsi con i suoi tifosi se la società e la squadra abbracciano di nuovo i tifosi per il Bari sarà un futuro in serie assicuro per quello che ci riguarda abbiamo scoperto che vincere non ci si stanca io non avevo mai vinto una Coppa è bello è bellissimo appena è finito ti viene voglia di rivincere di nuovo per cui quello che possiamo promettere ai nostri tifosi e tutti quelli che si avvicineranno al calcio a 5 femminili in questi mesi è che continueremo ad arrivare fino in fondo a giocarsi le finale poi in finale può succedere qualsiasi cosa però in finale ci sei arrivato li vuoi far sognare con qualche acquisto qualche no e anche il presidente potrebbe oggi perché ripeto il primo luglio c'è l'incontro con i sponsor e quindi poi si capirà il budget io vi ringrazio per questa piacevole chiacchierata complimenti ancora per queste due stagioni assolutamente esaltanti grazie anche a tutti voi per la cortese attenzione però restate con noi perché nella quarta parte parliamo di tennis con la rubrica curata dal nostro Giuseppe Bellino buon pomeriggio grazie a tutti